Eccone qua, le tre squadre, tutti scontorizzati tra l'altro, come è? Cacca e l'abbiamo applausi, amore! Allora, i punteggi sono vicinissimi, allora, aspetta, facciamo una cosa, vi fate un saluto, vi fate un saluto, tutti quanti, ben indetti? E siete, fanno anche tu un saluto, vi fate un saluto, vi fate un saluto, perfetto!